Musica Visita a Cava dei Tirreni del leader della Lega Matteo Salvini che in piazza Duomo ha avuto modo di incontrare i suoi sostenitori in un gazebo allestito proprio nella piazza centralissima della città metelliana. Con lui sul palco c'era il candidato sindaco della coalizione di centrodestra, Marcello Murolo, presenti anche altri candidati della Lega al Consiglio regionale. Non sono mancati momenti di tensione con la presenza di numerosi manifestanti venuti qui in piazza Duomo per contestare il leader della Lega Matteo Salvini. Massicciala anche la presenza delle forze dell'ordine, c'è stata anche una carica della polizia, una piccola carica per sfoltire la calca di persone che era arrivata in prossimità del palco. Anche se il leader della Lega Matteo Salvini non è riuscito a concludere serenamente il comizio, tutto è filato liscio. Musica In vista della tornata elettorale del 20 e 21 settembre, dal comune di Cava dei Tirreni fanno sapere che ci sono delle variazioni in merito all'ubicazione di alcune sezioni. Nello specifico, le sezioni 25 e 26, a causa dell'inagibilità della scuola di via Lucia Pastore di Pregiato, saranno ubicate presso la scuola elementare di Vianiello Salsano. La sezione 36, invece, dopo la soppressione della scuola di Marini, sarà trasferita al plesso scolastico di Dupino. Gli elettori della frazione Passiano, ovvero le sezioni 46, 47, 48 e 49, dovranno recarsi alle urne al liceo scientifico Genoino, in virtù dei lavori in corso alla scuola di Piazza Trezza, mentre i residenti di Sant'Anna, iscritti alla sezione 27 e 28, voteranno presso la scuola elementare di Via Pasquale di Domenico. Ripristinate, invece, presso la scuola di Piazza Baldi, le sezioni 50, 51, 52 e 53 della frazione Santa Lucia. Nel frattempo, è stata convocata per sabato 29 ottobre alle ore 10, a Palazzo di Città, la commissione elettorale, per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinate agli uffici di sezione per il referendum costituzionale e per le altre consultazioni elettorali indette per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre. Gli agenti della squadra mobile di Salerno hanno tratto in arresto l'avvocato di Capaccio Pestum, incensurato, sorpreso ieri nella casa circondariale di Forni, mentre cercava di consegnare otto telefonini, due microcellulari e dosi di cocaina e hashish ad un detenuto durante un colloquio, sperando di farla franca, approfittando del ridotto numero del personale di sorveglianza nel periodo estivo. A pizzicarlo con alcuni pacchetti nascosti negli slip e nella valigetta, sono stati gli agenti della polizia penitenziaria in servizio, che hanno immediatamente denunciato l'episodio alla procura di Salerno, ponendo l'uomo in stato di fermo. Accusato di spaccio di droga e favoreggiamento in flagranza di reato, il legale è stato così ristretto nello stesso carcere salernitano, dove si trova tuttora e per il quale non è previsto al momento alcun trasferimento per motivi di sicurezza. Il 39enne ha dapprima reso una confessione ai poliziotti della mobile, per poi avvalersi della facoltà di non rispondere davanti al PM inquirente Erminio Rinaldi, che ha aperto un fascicolo di inchiesta per approfondire la natura dei rapporti dell'avvocato con i reclusi nel penitenziario cittadino, per scoprire a quali detenuti erano diretti i cellulari sequestrati durante la perquisizione personale e, in particolare, se quello sventato ieri dalla penitenziaria sia stato un episodio sporadico o l'ultimo di una serie di introduzioni illecite di stupefacenti e telefonini in carcere da parte del legale di Capaccio, che ora rischia di incorrere anche in un severo provvedimento disciplinare da parte dell'ordine forense di appartenenza. Attimi di paura questa mattina in località Spinazzo di Capaccio Pestum, dove ha preso fuoco la cucina di un'abitazione in via del contado. A causare l'incendio è stata un'improvvisa fuga di gas che ha innescato una violenta deflagrazione causando danni in tutte le stanze dell'appartamento, sito al piano terra. Allertati dai vicini sul posto sono giunti tempestivamente i vigili del fuoco di Agropoli, diretti dal capo di staccamento Angelo Piccariello, ed un'ambulanza medicalizzata della Croce Gialla, la cui equipa ha trasportato in ospedale ad Eboli il proprietario dell'immobile, un anziano di 83 anni che ha riportato ustioni varie su tutto il corpo. I caschi rossi hanno impiegato circa mezz'ora per domare il rogo che ha causato non pochi danni e mettere in sicurezza l'abitazione. Secondo i primi rilievi l'uomo si era appena alzato dal letto e si stava preparando il caffè accendendo il fuoco sui fornelli quando è stato improvvisamente investito dallo scoppio. Tutto pronto ad Amalfi per il capodanno bizantino giunto quest'anno alla ventesima edizione. La città si prepara dunque ad uno straordinario salto in quel glorioso passato durante il quale da regina dei mari ricca e intrepida seppetessere rapporti commerciali con l'Oriente. Il mare sarà il tema che contaminerà questa edizione della manifestazione come sempre realizzata tra Amalfi e Atrani. L'appuntamento con l'apertura del capodanno bizantino è fissata per lunedì 31 agosto e il primo settembre quando viene rievocato l'inizio dell'anno fiscale e giuridico nell'epoca dell'impero d'Oriente. Magister di civiltà amalfitana per la categoria della marineria intitolata Flavio Gioia della ventesima edizione del capodanno bizantino sarà il comandante Gennaro Arma capitano della nave da crociera Diamond Princess duramente colpita dalla pandemia nello scorso febbraio e rimasta in quarantena nella baia di Yokohama con circa 700 contagi su 3.700 persone appartenenti a 56 nazionalità diverse. Il primo incontro con il nuovo Magister avverrà con la consueta intervista pubblica programmata per lunedì 31 agosto che sarà l'occasione per raccontare e mettere in luce le motivazioni dell'assegnazione del titolo al comandante Arma. Il programma proseguirà poi il 1 settembre con gli altri capisaldi storici dell'evento quali la cerimonia di investitura secondo l'antico e suggestivo rito di incoronazione dei duchi di Amalfi alla presenza dell'arcivescovo sulla scalinata della cappella San Salvatore dei Birecto di Atrani e la presentazione del Magister alla popolazione col suo saluto sulle scale del Duomo di Sant'Andrea Apostola da Amalfi. Non ci sarà l'imponente corteo storico che da Amalfi si dirige verso Atrani come richiesto dalle misure in vigore che prevedono sull'evento in forma statica. I figuranti dunque saranno già disposti nei luoghi dell'investitura e della presentazione. Un anno fa di questi tempi la Cavese preparava il debutto interno nel campionato di Serie C con la Z Picerno e veniva già da un lavoro precampionato sorvolando sui risultati alterni che poi sarebbero venuti dalle prime quattro gare. Adesso la situazione è ben diversa da quella di un anno fa la Cavese sta provando a recuperare il tempo perduto e peraltro il campionato di C 2020-2021 inizierà un mese più in ritardo. Dopo le due settimane senza possibilità di allenarsi collettivamente i bianco-blu a Nusco devono immettere benzina nei muscoli tramite la preparazione atletica in particolare al mattino e poi nel pomeriggio si dedicano ai fondamentali e agli schemi d'attacco. Dopo parecchi mesi i giocatori hanno la possibilità di allenarsi col pallone soprattutto perché in questa fase dell'anno è molto importante focalizzarsi sui propri principi di gioco più che sugli avversari che ovviamente si conoscono poco. Potrebbe arrivare un esterno d'attacco ma è più probabile che al momento arrivi nelle file della Cavese un centrocampista e il più indiziato secondo la stampa nazionale sarebbe Gianluca Esposito classe 95 classico centrocampista box to box quindi giocatore di quantità arriverebbe dalla fermana. Giacomo Modica l'allenatore della Cavese intervistato ieri dall'ufficio stampa del club metelliano si è soffermato a commentare la situazione generale della sua squadra e anche quella del campionato di C. Stiamo lavorando stiamo lavorando proprio per mettere appunto quelle che sono state le mancanze le defezioni in questi sei mesi di natura fisica e quindi benissimo non li ho trovati ma ribadisco penso che sia un problema generale. Parto dal rapporto che era già abbastanza bello col Presidente di grande stima di grande cordialità e il fatto che poi mi abbia richiamato mi ha mi ha reso molto orgoglioso perché vuol dire che tante cose si sono appianate anche in funzione di una bella chiacchierata fatta prima di sederci al tavolo per chiudere il rapporto nel cominciare 2020 e 2021. Queste le aspettative del tecnico siciliano? Ma questa è un'altra gavese dove stiamo cercando di di capirci di buttare le basiche per quello che dovrebbe essere la nostra stagione con la consapevolezza di sapere che ci sono tante squadre importanti blasonate forti che hanno fatto anche storia Serie B come l'ha fatto in passato la Cavese qua è la Cavese il bene collettivo e non bisogna illudere nessuno nel poter dire noi siamo i più forti i più bravi i più belli dobbiamo mettersi nelle condizioni di rendersi una squadra che abbia un'anima e che abbia un'identità che voglia fare bene e che cercheremo di vendere dura la nostra pelle con tutti. Intanto la Lega Pro ha confermato tramite una nota stampa che il sorteggio dei calendari della Serie C si effettuerà giovedì 10 settembre a Roma presso il Salone d'Onore del CONI con inizio alle 18.50 Malgrado tutti i rischi che si corrono causa la situazione epidemiologica in Italia la Lega di Francesco Ghirelli appare orientata a confermare la formazione di tre gironi da 20 squadre in attesa delle decisioni del Consiglio federale in programma il prossimo 8 settembre invece un altro Consiglio federale in programma il 31 agosto indicherà quali possono essere le date di inizio dei campionati per quanto riguarda la Serie C l'intenzione è di partire il 27 settembre è stato comunque creato un gruppo di lavoro per definire le regole e le procedure necessarie a governare un'ipotetica nuova situazione di blocco delle competizioni qualora la situazione coronavirus in Italia dovesse degenerare è stato anche deciso che nell'eventualità in cui ci siano nello stesso periodo quattro casi di non negatività al covid-19 in una stessa squadra potrà essere richiesto dal club il rinvio della partita in programma un'altra idea è la creazione di un gruppo di lavoro che ragioni sulla formula dei campionati e sulla riforma il cavabasket riparte dalla serie D ma non vorrebbe precludersi la possibilità di riemergere solo che adesso bisogna ricominciare e occorrerà nuovamente tempo i metelliani sono stati competitivi per poter salire dalla C silver alla C gold ma in caso di promozione la difficoltà sarebbe stata costituita dal dover giocare sempre in campo neutro fino a quando la palestra San Nicola di Pregiato non sarebbe stata adeguata agli standard della serie superiore sostituire il pavimento attuale con un parquet sarebbe stato ritenuto dalla FIP come l'intervento più importante affinché Icava continuasse a giocare nella sede naturale ma la società cestistica non avrebbe potuto sostenere quella cifra quindi problemi infrastrutturali ma la speranza che tornare a coltivare ambizioni nel prossimo futuro non sia impossibile se ci sarà una certa vicinanza da parte dell'amministrazione comunale di Cava dei Tirreni qualunque essa sia dal canto suo Emilio Maddalo resta presidente dei Bianco Blu così come rimane in sella l'attuale compagine societaria del Cava l'idea di fare un programma che ci possa portare a far crescere dall'under 13 fino all'under 18 tutta una serie di ragazzi che poi possono andare un domani a rimpinguare quelle che sono le scorte della prima squadra per noi è fondamentale mi auguro che l'amministrazione le amministrazioni o quelle che si susseguiranno dopo le elezioni calchino la mano su questo tipo di aspetto mi auguro e conto sul fatto che al comando dell'assessorato allo sport ci sia una persona competente cioè una persona che capisca di sport cioè una persona che per affrontare le problematiche di cui abbiamo bisogno non solo noi come Cava Basket ma tante associazioni sportive che ci sono a Cava perché non siamo solo noi quelli che abbiamo la difficoltà ma ce ne sono tante che hanno questo tipo di difficoltà una persona che si sappia mettere di fronte a noi e possa capire dal di dentro quelle che sono le vere problematiche delle nostre associazioni hai fatto una prova generale di applicazione di questo protocollo e c'è stato detto che era andato tutto bene quindi anche per la prima squadra riuscireste ad applicarlo sì noi abbiamo fatto un protocollo abbiamo presentato un protocollo al comune che è stato accettato per quanto riguarda un camp che abbiamo fatto nel mese di luglio tre settimane che abbiamo fatto nel mese di luglio dove abbiamo cercato di rispettare al massimo tutte quelle che erano le necessità parlo dell'acquisto di termometri quindi con la misurazione delle temperature all'esterno prima di fare entrare l'atleta in palestra ingresso separato tra ingresso e uscita nessuna nessun utilizzo degli spogliatoi e sanificazione di tutte quelle che sono gli attrezzi utilizzati durante diciamo durante gli esercizi ivi compresi i palloni che poi in quel caso lì venivano affidati al singolo al singolo giocatore per cui speriamo noi speriamo che le cose migliorino e che quindi tutto questo ragionamento sui protocolli da seguire si semplifichi perché poi non è molto semplice gestire questa cosa in maniera sempre completa parliamo sempre di un qualcosa che diciamo di imponderabile sotto certi aspetti grazie a tutti